La Sacra di San Michele di notte illuminata con i colori della bandiera del Piemonte, sullo sfondo la cometea New Eyes, che la scorsa estate ha incantato gli appassionati di astronomia di tutto il mondo. E questa la foto vincitrice del concorso Instagram Il Piemonte che sono, promosso dal Consiglio regionale per valorizzare gli angoli più amati del Piemonte in occasione dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della regione. Abbiamo voluto premiare uno dei giovani con un sistema giovane come può essere Instagram, perciò era dedicato anche a loro per far conoscere al meglio due simboli del Piemonte, la Sacra di San Michele e la bandiera, il nostro drappò. Abbiamo voluto unire le due simbologie e si è voluto unirlo in un unico scatto e il vincitore Enrico ha voluto ancora darci un'ulteriore emozione assieme alla cometa. A immortalare l'istante del passaggio della cometa nei cieli della Valsusa, Enrico Pollone, giovane fotografo di Sant'Ambrogio, che con il suo scatto ha ottenuto il maggior numero di like. Per lui, oltre alla soddisfazione della vittoria, due tessere abbonamento musei offerte dall'Associazione Abbonamento Musei. È stato fatto dal sentiero dei Principi, su un balconcino di fronte alla Sacra di San Michele. Ho cercato di immortalare i due eventi con questo scatto. Sono contento di come è venuto e mi fa piacere essere stato premiato. Grazie alla collaborazione con l'Abbazia, l'illuminazione notturna della Sacra di San Michele continuerà ogni fine settimana fino a dicembre 2020. Un modo per ricordare a tutti i piemontesi che quest'anno e anche il prossimo sono dedicati alla celebrazione dei 50 anni della Regione Piemonte.